Simone Pirodo non tradisce le attese e si conferma campione italiano cadetti lotta a stile libero. Nonostante la giovane età ha ben chiaro il suo prossimo futuro. A marzo ho partecipato agli italiani cadetti, ho vinto per la quarta volta gli italiani con semplicità. Adesso mi convocheranno a Roma per uno stage in preparazione degli europei che avrò a maggio. La mia promessa ai miei genitori sarà di andare sempre più in alto, vincere i mondiali, fino ad arrivare alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Per continuare la tradizione dei Pirodo. Certo.